Io calcolo che l'affare dovrebbe fruttarci all'incirca due milioni, sì, due milioni di dollari tutto compreso. Lo so, bella, i soldi ti piacciono e forse al posto del cuore è un grosso dollaro d'argento, ma fatti furba, se stai al gioco ne avrai una montagna. Ah, che sciocca, vero? È la prima volta che ci vediamo dopo tanti anni e mi perdo a far discurso. Tra l'ora in poi vedrai che tutto andrà meglio. Centinaia di migliaia di dollari. Ma che cosa ti fa pensare che potrai avere delle cifre simili? Non posso dirti altro, non posso parlarne, ecco. Neanche la tua piccola scelta. Non avrei dovuto neppure accennartene, e non è che io non abbia fiducia in te, ma è che se gli altri lo vengono a sapere... Chi gli altri? Insomma, non posso dirti niente. Allora hai parlato, gliel'hai detto, eh? Non è vero, non le ho detto niente, non sono mica matto. Buffone! Avanti, sputa fuori la verità. Vuoi sapere chi mi ha detto tutto? Canaglia!